Ma che avete fatto? Vediamo Paolo Scuderi, presidente della News Assosa. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Vediamo, questa è qualche domanda da studio. Siamo con Paolino Scuderi, sappiamo che sei molto contento, quasi euforico, di questa bella prestazione della tua squadra. Che ci dici? Noi miriamo in alto, quest'anno sicuramente cercheremo di rientrare tra le prime dieci squadre del torneo. Chiaramente spereremo anche di arrivare a questo punto nei primi tre posti. Stiamo cercando di, peraltro, rinfoltire la rosa nel mercato. Per quale posizione cerchi di rinfoltire? Allora, noi vorremmo arrivare sicuramente tra i primi tre posti. Il primo e il secondo sarebbe un sogno, perché non faremmo le fasi preliminari degli scontri diretti. Quindi, insomma, sarebbe buono per la News Assosa. Penso che i ragazzi lo stiano dimostrando in questo periodo. Vediamo una domanda dallo studio. Sì, volevamo chiedere se è solo un caso. Sento un attimo. Mi sente adesso? Sì, sì, la sento, Castorina. Volevamo sapere se è solo un caso che questa coincidenza di lei che si ritira dal calcio giocato e questa Sassosa che vole in campionato come mai ha fatto in passato. La Sassosa sicuramente sta andando bene. Il fatto che io mi sia ritirato dal calcio giocato è una cosa lampante, nel senso che non giocando sicuramente mi è rimasto l'occhio di cercare dei buoni ragazzi e delle persone valide all'interno della Sassosa e che saranno importanti nei prossimi anni. E questo gli si deve assolutamente. Grazie. Bene, ringrazio. Proprio grazie a questo. La domanda dei nuovi... Tu vuoi stancare, Enzo?